Salve a tutti siamo qui con un nuovo video ed in questo video continueremo a stare su lspdfr in questo episodio ragazzi faremo parte della divisione di sicurezza della polizia di stato come vedete abbiamo appena a parte che abbiamo appena ricevuto una chiamata che comunque declineremo ok e abbiamo ragazzi il distintivo vedete della polizia di stato alla cintura ma non abbiamo le mansioni di un poliziotto abbiamo quelle di sicurezza sicurezza privata cose del genere ragazzi ci occuperemo di tutta quella parte lì Ragazzi sto facendo un giveaway su instant gaming qua sotto in descrizione cliccate sul link scegliete il vostro gioco preferito e potrete vincerlo gratuitamente inoltre seguitemi su instagram che è sempre lì in descrizione con cui vi farò scegliere su cosa fare il prossimo episodio questa volta ho scelto carabinieri e polizia e cose italiane ragazzi proprio perché mi è stato consigliato da voi su instagram quindi mi raccomando andate lì Ora davanti a me abbiamo l'auto che utilizzeremo ci hanno dato a disposizione questa bellissima alfa romeo 159 che all'occorrenza possiamo attaccare sul tetto un lampeggiante usare le sirene comunque e in caso di necessità sfruttare tutto il potenziale di questa macchina Adesso come vedete è assolutamente in borghese è assolutamente un alfa romeo normalissima bianca anzi abbastanza pulita abbastanza nuova cosa che non si vede molto spesso ma comunque come vedete abbiamo la targa civile Cosa molto interessante anche questa non abbiamo la targa da polizia sapete quella che ho scritto polizia sopra tutta bianca ma in realtà abbiamo una normalissima targa vedete a cv doppia quindi di qualche anno fa Comunque ragazzi in ogni caso adesso io salirei sopra che vi faccio vedere anche sopra lo vedete comunque da dietro che c'è un lampeggiante in più posteriormente centrale lo vedete questo un po ci indica che non è esattamente una 159 E qualunque guardate che interno abbiamo tutto quello che ci serve all'interno dell'auto ma non ci sono cose in più ad esempio computer o cose simili non abbiamo queste mansioni qua se apriamo dietro e attiviamo naturalmente le sirene vedete che abbiamo una serie di led con cui appunto potremo scrivere qualcosa ad esempio controllo eccetera eccetera Quindi ok ragazzi allora abbiamo una chiamata sì c'è una guardia di sicurezza che richiede un'unità in più quindi probabilmente è qualcuno che ha qualche problema una guardia di sicurezza che magari ha paura che succeda qualcosa di strano e che quindi gli serve un backup direi di andare lì il prima possibile Ragazzi forse lo state notando ma non c'è il rumore il suono della macchina questo non è un errore mio è proprio la mod della sicurezza che ci permette di ricevere queste chiamate di sicurezza qua che per qualche assurdo motivo non permette di avere il suono delle auto almeno della mia auto poi non so se le altre ce l'hanno guardate comunque che belli che sono le jeep dell'esercito Per questo episodio ragazzi ho usato la Grand Theft Italy ah non ve l'ho aggiornata non ve l'ho più aggiornata vi avevo promesso che l'avrei fatto ma alla fine non l'ho fatto più perché sono 40 giga da caricare e 40 giga per voi da scaricare che sono decisamente tanti 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 giga Quindi non so alla fine per quanti di voi sia utile la Grand Theft Italy comunque eccola qua vedete ci sono le multiple le pande tutta la polizia è la polizia italiana tutti i cartelli della pubblicità sono cartelli italiani vedete che lì c'è la pubblicità della birra peroni ad esempio Questo è l'autobus di Roma vedete con la Rai eccetera eccetera l'Atac quindi è tutto versione italiana al massimo possibile ma comunque ragazzi quanto manca qui per il per la sicurezza ah ma è cavolo è a Sandy Shores ok Allora facciamo una cosa ci vediamo ragazzi una volta che siamo arrivati laggiù così non perdiamo altro tempo e vediamo che diamine per quale motivo ha bisogno di una persona fin dallo Santos per aiutarlo nella sicurezza che diamine non ce n'è uno più vicino Ok ragazzi ci siamo quasi siamo alla Sandy Shores finalmente vediamo un attimo per quale motivo ci ha chiamati ci ha fatto smuovere fin qua che abbiamo pagato più di benzina che di che di altro sinceramente Andiamo anche abbastanza veloci se riuscissimo a superare il traffico ok sarebbe buono essendo un'auto così diciamo civetta ci potrebbero anche fermare i poliziotti pensando che noi siamo dei civili che non lo so passano con il rosso cose del genere Però appunto dobbiamo una ah ma che poi è alla centrale cioè nel senso è alla centrale dei carabinieri che diamine per quale motivo non lo so adesso vediamo ok siamo arrivati ragazzi come vedete c'è un tizio della sicurezza lì Avviciniamoci e vediamo di parlare con lui per capire esattamente qual è il problema e per quale motivo salve sono l'agente dallo Santos quale motivo per quale motivo mi ha chiamato C'è una persona con che è ricercata qua vicino e sembra che stia per andarsene dobbiamo cercarla qua fuori il sospetto è un uomo di colore si chiama branco e non dovrebbe essere non dovrebbe essere troppo pericoloso Perfetto è vestito con un top leggero che non so che diamine significa branco lynch branco lynch dobbiamo cercare un tizio una tizia no un tizio perché branco lynch non è di certo una tizia ed è un uomo di colore Quindi stiamo cercando un uomo di colore ragazzi tenete tirate fuori eh sì tirate fuori vabbè uh aspettate c'è un uomo di colore lì Ah sì non vorrei fare di tutta l'erba un fascio ma dato che è nell'area potrei andargli a chiedere qualche domanda no potrei fargli qualche domanda Signore salve scusi mi scusi signore lei ehi lei aspettate fatemi prendere la macchina e dare un'occhiata con la macchina che è sicuramente più facile che andare a piedi così Guardare con la macchina anche perché sembra che si stia spostando mi pare non vedo bene se si sta spostando l'area Un po' verso il centro quindi se riuscissimo a vedere magari un uomo ok anche perché ha un top leggero quello lì che aveva una bandana aveva un giacchetto Ma potrebbe essere lui ragazzi magari è stato descritto male dalle persone Sembra che minacci la sicurezza quindi per questo motivo dobbiamo capire chi è e dobbiamo fermarlo E lo vedo come un bel vagabondo quello eh in realtà quindi ragazzi proviamo quell'uomo proviamo questo cioè non so mettiamo il lampeggiante sopra Ecco fatto proviamo a fermarlo vediamo non sembra essere per nulla sorpreso da me scusi signore può venire qua un attimo Fermati fermati amico mio ehi la ehi voglio farti solo una domanda voglio farti solo una domanda fermo Fermo no 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 amico mio no 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 fermati 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 Vabbè prendiamo la pistola aspettate torniamo in auto un attimo sta scappando sta cercando di scappare Mi sa che dobbiamo iniziare un inseguimento ma oh caspita stava per rubare un quad ma non l'ha fatto Fermo fermo dove sei ehi fermoti guarda che devo fargli una manovra devo fargli la manovra ragazzi Ok gli facciamo la manovra gli facciamo lo sgambetto come piace definirlo a me facciamogli lo sgambetto Ecco qua fermati 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 fermo 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 dove sei fermo dove sei Fermo dove sei fermo fermo fermati Caspita ragazzi ok dobbiamo iniziare un inseguimento sta cercando di scappare Oh no non chiedo altre unità voglio cavarmela da solo per una volta senza la polizia Vediamo se ce la faccio Fermati Voglio colpirlo ai piedi ma non ucciderlo ovviamente Ecco sta rallentando è stato ferito è rimasto ferito è rimasto ferito Fermo mani in alto mani in alto ho detto mani in alto mani in alto Mani in alto fermo dove sei abbassati a terra con le mani bene in vista con le mani bene in vista Ok perché stavi cercando di scappare guardate che bella la bandiera europea ragazzi comunque Perché stavi cercando di scappare amico mio adesso ti adesso vediamo vieni vieni con me vieni con me No 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 dove stai andando dove stai andando amico fermo Fermo ok vieni qua con me adesso vieni qua con me aspetta che ci siamo incastrati Aspetta un secondo aspetta un attimo eh ecco qua adesso vieni con me che ti controlliamo per benino Perché lo spiritoso qua non lo fai che sali sulle auto degli altri ok Tu lo spiritoso qua non lo fai abbiamo lasciato le sirene accese per colpa tua Allora vediamo un attimo se è lui ragazzi si chiamava Branco Lynch se non erro Ah però adesso vediamo appena arriviamo all'auto ragazzi vediamo un po' Ok eccoci qua siamo arrivati aspetta un secondo qua adesso eh aspetta un attimo qui Eh che devo staccare le sirene un secondo solo un secondo solo Ok lasciami il tempo di perché ho lasciato tutto acceso qua dovremmo avere la cosa che quando Ok perfetto togliamo anche il lampeggiante da sopra Perfetto ragazzi e adesso vediamo di fare un bel controllino a quest'uomo qua Giusto per capire che diamine e come si chiama e chi è Ok fammi vedere che cos'hai addosso Per quale motivo sei stato ritenuto Uh abbiamo trovato Branco Lynch è lui E abbiamo trovato una pistola da combattimento che appena ha rilasciato Prendiamola come prova perfetto e adesso amico mio Caspita caspita direi che chiamiamo un vero poliziotto per portarti via che ne dici Chiamiamo un vero poliziotto ragazzi vai giù 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 a terra così bravissimo Ottimo allora chiamiamo un backup un'unità di trasporto locale ok L'agenzia chiamiamolo dell'LSSD a posto aspettiamo che arrivino questo qua sta nell'erbetta a godersi non so neanche cosa Ah no sono arrivato un carabiniere a posto ok ragazzi stavamo tornando a casa ma abbiamo scoperto che c'è una possibile Penso che siano delle persone che si stanno organizzando per una rapina o qualcosa di simile Quindi adesso siamo immediatamente tenuti ad andare sul posto guardare bene la situazione e cercare di capire se effettivamente queste persone Ok aspetta aspettate che qua lo faccio o non lo faccio Cioè abbiamo un'auto che non è da sterrato ma che andando piano ci potrebbe anche andare Ok andiamoci lo stesso perfetto Apparentemente ragazzi ci sono delle persone che si sono messe d'accordo per organizzare una rapina e qualcuno ha fatto una soffiata Quindi per questo motivo adesso stiamo andando a controllare se ci va direttamente un poliziotto sicuramente scappano o inizia uno scontro a fuoco Ma se ci andiamo noi così probabilmente riusciamo a salvare un po' la situazione vediamo un attimo Non so se ho capito bene la chiamata perché in realtà era abbastanza confusionaria Però vedo che ci sono un paio di persone lì davanti quindi potremmo dare un'occhiata alla situazione Ok parcheggiamoci qua come se fossimo dei civili no? Tranquillamente qui Attenzione però perché abbiamo il distintivo bello in vista quindi non vorrei che ci siano problemi Prendiamo la pistola ragazzi perché qua una rapina è una cosa seria potrebbero esserci persone armate Ok vediamo un attimo aspettate mettiamoci qua del paletto Ok vedo due uomini Ok vedo tre uomini Due uomini che stanno parlando Forse è un uomo fermo sul lato vedetelo lì a sinistra che non sta facendo niente Non so esattamente cosa io debba fare se debbo avvicinarmi o devo stare qua Devo controllare un attimo cosa stanno facendo quelle persone e se qualcuno di loro magari si muove Si avvicina si allontana si sposta mi fa un cenno qualunque cosa potrebbe essere utile alla polizia Per capire esattamente cosa dovremmo fare qua Ma non vedo movimenti di alcun genere non vedo movimenti di alcun tipo Vorrei vedere se qualcuno di loro ha un'arma in mano ma sono un po' troppo lontano per vederlo Mi piacerebbe usare il binocolo ma in macchina forse c'è ma forse no e non ne ho idea Come vedete sono quei due uomini sotto il cartellone all'Italia E poi c'è quell'uomo lì a sinistra dietro la macchina bianca Cioè davanti alla macchina bianca Continuiamo a mantenere la nostra borghesità E proviamo ad avvicinarci di più con la macchina Come se dovessimo andare qua allo U-Tool ok Giusto per capire esattamente cosa sta succedendo Anche perché si stanno incontrando in un luogo pubblico Quindi vorrei capire esattamente Ok dobbiamo parlare a una persona Che sembrerebbe essere Come diamine possibile Allora noi dovremmo parlare con quella persona Aspettate allora facciamola in macchina va Che però non mi fido tantissimo Vedete dobbiamo parlare a quello che è Colui che ha visto tutto quanto Il problema è che ci sono due persone qua Che non so se sono loro Ehi sono qui sono qui Li ho visti che andavano in giro Ed erano tutti strani Faccia qualcosa Ok Ce l'hai dietro Ok andrò a parlargli Sei libero di andare Va bene Lui è andato Adesso ci parcheggiamo Anche se li vedo belli fermi Belli tranquilli E vediamo un attimo Cosa diamine sta succedendo qui Salve Salve Mi scusi Salve Fermo un attimo Grazie Se mi può dare un documento Per favore Grazie mille Ottimo Vediamo un attimo Sembra Alex Marton Alex Marton È un uomo del Nato nel 90 Caspita Caspita Alex Marton Non mi pare di averlo visto A fare nulla di strano Sinceramente Quindi ragazzi Io non lo posso Trattenere per niente Alex Marton Dovrei chiamare la centrale Per chiedere Se sanno qualcosa Su Alex Marton Quindi Non hai nulla di strano Nelle tasche Io controllo Non c'è nulla di strano Vero Vediamo un attimo Ragazzi Entriamo un attimo in auto Vediamo un secondo Che cosa ci sanno dire Su Alex Marton Ok Record Per favore Si chiama Alex Marton Perché noi non abbiamo Tutto il computer della polizia Come vedete di solito Che uso nel Normalmente Come poliziotto Ok Non è ricercato Ha la patente valida Alex Marton Nato nel 90 Ci confermano Che a lui La stessa foto Tutto uguale Non vedo nessun problema Con questo Alex Marton Quindi noi ragazzi Adesso Che cosa state facendo Qua oggi State State pianificando qualcosa Per caso Cosa Camminare illegale Adesso Non puoi provare nulla Il sospetto Non dice più nulla Andiamo a parlare Con l'altro Ragazzi Anzi vediamo se c'è Qualcos'altro Che gli possiamo dire No Proviamo a parlare Con l'altro Che anche lui È abbastanza sospetto E non mi piace tantissimo Però vediamo un attimo Salve Mi scusi signore Salve Vorrei anche un suo documento Se non è un problema Ok Grazie Mi dia una patente Qualunque cosa La carta d'identità Andrea Zilean Andrea Zilean È nato un anno dopo Ok Proviamo a chiedere alla radio Anche Andrea Zilean Vediamo un attimo Andrea Zilean Ok Vediamo cosa ci sanno dire loro Non è ricercato Nel nulla del genere A me sembra Abbastanza normale Sinceramente Facciamola gestire A qualcun altro Noi andiamo avanti Magari un poliziotto vero Che sa magari Dare un'occhiata A queste persone E sa dirci che cosa Che cosa sta succedendo Noi torniamo in macchina Ragazzi Aspettiamo che arrivi L'altro poliziotto Intanto li teniamo d'occhio Sono anche lontani Cioè neanche stanno parlando Tra di loro Ma sembra che si conoscano Però quindi Non lo so Non lo so Ed eccolo qua Ok voi due Andatevene via E non fatemi incontrare Vai più Perfetto Perfetto Ok se ne stanno andando Tranquilli Uno parla al telefono L'altro va per la via sua Ragazzi Non c'è nient'altro da fare Bene Quindi ragazzi Vediamo se c'è qualcos'altro Per noi oggi Intanto giriamo a destra E aspettiamo Un altro agente Eccolo qua Benissimo Arrivederci Grazie Perfetto Noi torniamo verso Verso Sandy Shores Non pensavo di fare molte chiamate Verso questa zona Ma mi sa che oggi Oggi è la giornata eh Ok ragazzi No Questa volta non è lì E si tratta di una persona Con un'arma Un'arma in pubblico Che la sta portando in giro A Grapeseed Vediamo come raggiungere Il prima possibile Questa zona Con il navigatore Ci dice di fare l'autostrada Che probabilmente è la cosa migliore Attenzione che qua Devo utilizzare assolutamente I lampeggianti e le sirene Ah caspita Una persona armata Questa potrebbe essere Bastanza complicata Allora abbiamo la pistola Da combattimento Che abbiamo sequestrato prima E abbiamo la pistola Normale D'ordinanza Adesso andiamo Con la pistola normale Quel tizio Quanto è pericoloso Se è pericoloso Magari è un contadino Se solamente Non lo so Aveva un fucile in mano Magari per cacciare Qualc'animale Ma la gente si è spaventata E quindi è chiamato La sicurezza E vediamo un attimo Che cosa riusciamo a fare Intanto andiamo lì Più velocemente possibile Prima che succede Qualcosa di brutto Si trova in un luogo pubblico E si trova vicino Al supermercato Quindi vuole rapinare Quel 24-7 Vediamo un secondo Ok Uh lo vedo È un militare Ma che diamine Vestitore militare Oh caspita Oh caspita Come faccio adesso Aspettate Facciamo una cosa Facciamo una cosa Mettiamoci qua Copriamoci con l'auto Un secondo Mi sa che dobbiamo Chiamare backup qui Mettiamoci qua dietro E chiamiamo backup Per favore Chiamiamo un'unità locale Sì Chiamiamo almeno Un'unità locale Per il codice 3 Tiriamo fuori la pistola E parliamo al sospetto Vediamo un attimo Cosa ci sa dire Ehi Questa proprietà Non può In questa proprietà Non può portare armi No Voglio Le chiedo di andarsene Per favore Vedo che è vestito Da esercito italiano Per favore Se ne vada Prima che succeda Qualcosa di brutto Non mi punti l'arma addosso Per favore No Fermati Fermati C'è un inseguimento Ah Caffolo Ah pure il giubbotto Antiproiettile Per fortuna sono arrivate Oltre unità Altre unità Servono altre unità Per l'inseguimento Dov'è Dov'è È laggiù È laggiù È laggiù È laggiù È laggiù È laggiù Ok Ok Ha un fucile Proprio Ha un fucile Fucile Fermati Fermati Caspita Lo stanno inseguendo i carabinieri I nostri colleghi Più o meno Ci piacerebbe Che diamine È finito ragazzi È finito l'inseguimento È sparito Zero sospetti Ascappati Zero uccisi Zero presi Non lo so Non so che dirvi È sparito È finito così C'è anche un altro tizio Dell'esercito qua Che sta andando in giro Vabbè ragazzi Aspettiamo un'altra chiamata Vediamo un attimo Facciamo l'ultima chiamata di oggi Che ne dite Ok Ok Abbiamo un altro senza tetto Che sta disturbando la pace E la quiete pubblica Si trova alla Human Labs Quindi ai laboratori human Quelli che fanno le medicine Ragazzi Sembrerebbe lì il problema Che poi io mi chiedo Cosa ci fa Un ubriaco alla Human Labs Ok Come vedete questa strada è da fare Per arrivare alle Human Labs Quindi è una strada piuttosto complicata Lontana da qualunque cosa Probabilmente anche da qualunque bottiglia di alcol Ma chiunque se la può portare in giro Quindi forse boh Sarà da scoprire anche questa cosa qua Ma eccoci qui Ah è fuori dalla Human Labs Ok Si vedo che in realtà è più di una persona in realtà Ok Ai sospetti infatti Facciamo una cosa Flexo su di loro così Guardate che bello Controllo Alt polizia Controllo Alt polizia Bellissimo Togliamo l'arma perché li spaventiamo Poi vabbè sono solo ubriachi Ok signori Salve Qualcuno ha riportato Che voi tre state disturbando La pace pubblica Cosa sta succedendo Non stiamo facendo nulla di sbagliato Vattene via Dai Vieni qua Cos'è Quale problema c'è Con lo stare qui Oh corri Maledetto maiale Oh come Oh Fermati No 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 Mico mio no 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 Ci picchia Perché la torcia Perché la torcia No Fermati 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 Io devo sparare Guarda che sono alle Guarda che sono addistrato Fermo Fermo sparo Vattene come i tuoi amici Fermo sparo Fermo Fermo Bravo Hai fatto la scelta giusta A terra A terra bravo così Bravo così Che diamine Tu sei l'unico con la testa calda di tre eh Provo con la testa calda Vediamo un attimo Allora vieni qua un secondo Fammi vedere il tuo nome e tutto quanto Come ti chiami Cosa facciamo con te Beh innanzitutto ti controlliamo le tasche Vediamo se hai un documento Che cos'hai Matthew Bunting Un attimo solo che controlla la radio Cosa Chi sei Matthew Bunting Matthew Bunting Ok ok sei a posto Sei nato nel 46 E ti metti pure a dare contro Alle guardie più giovani di lei Eh Non mi sembri molto intelligente Per avere non so quanti diamine di anni Vabbè Comunque Ognuno ha il diritto di esercitare il suo diritto Come si dice Vai 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 Salta su salta su Sali su sali su Tranquillo Vai vai Vabbè Ti devo mettere io dentro Ti devo mettere io O ce la fai da solo Mi sa che ce la fa da solo Gli abbiamo aperto la porta Ce la farà ben da solo Bene ragazzi Noi invece terminiamo qua A questo episodio Quindi grazie a tutti della visione Lasciate un like Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi per nuovi episodi Sul LSPFR Ogni sabato E niente In descrizione c'è il link del mio Instagram In cui vi faccio scegliere Cosa succederà nei prossimi episodi E anche del giveaway Di Instant Gaming In cui potete vincere Un gioco Gratuitamente Ragazzi Quindi Il gioco a vostra scelta in realtà Quindi andate lì sotto E cliccateci Grazie ancora Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti